Buonasera Mauro e Filippa, questa sera all'anfiteatro di Biceglie, cosa fate di bello? Siamo a Biceglie, certo lo so, siamo in Puglia, ancora in Puglia insieme? Chi si muove? Chiamaci Fessi, in agosto siamo in Puglia, sul mare. In Puglia? Io sono arrivato in Puglia, lei invece, voi la vedete svedese ma invece è italica, molto italica. Ed è in tournée con il Regione Levante Tur che oggi fa tappa a Biceglie, un posto meraviglioso. No ma è un posto veramente trastosferico. Io adoro Biceglie, ci lavoro molto, sono contentissimo. Ma tu lo dici sempre in ogni posto, sempre con quelle parole. Non è utile che mi sfotti perché loro sanno. Lo conosciamo bene Mauro. Salutiamo Biceglie Live. Ah e quindi devo recuperare io. No per me è la prima volta a Biceglie. Ti piace Biceglie? Il posto? Non piacermi. È veramente un posto magico. Ah il posto? Lui è un po' meno. Non è un po' meno del posto. Però per... Questa sera... Ci sono delle belle donne quindi facciamo presto. Questa sera cosa presentiamo? Allora stasera per il risollevante... Allora abbiamo... Lo salendo, lo salendo. Bruschetta è il postino di Zelige, meraviglioso. Tome terapino, il campione. Il campione in carica, vincitore dell'ultima edizione del Festival del Cavaleo nella città di Mattina. Chico Paglionico. Ikea man di Zelige. Ikea man quindi terra mia, roba mia, roba mia. Tino Paradiso, il Lucano di Colorado. Il Lucano di Colorado. Antonello Vardocchi. Fenomeno barese che le canzoni mondiali le cambia in dialetto nostro. Dove io ho bisogno del traduttore simultaneo perché non... Quindi si presenta una serata fantastica. Una serata pazzesca. Aspetta vogliamo finire. E poi abbiamo Nude. Si, Nude sono le parole che ha imparato in dialetto. C'è la band col fischio senza, la risollevante band. Mauro Pulpito. E Filippa Laierba. Grazie e buona serata. Ma no! Paglionico si, Paglionico si, Bruschetta si, Paradiso si, Ferafino si. Devo dirti tutti. Ok, grazie. Buona serata. Ciao ciao.